per rimanere qui verrete contattati ovviamente per maggiori informazioni non parlano al momento di un rimborso o comunque qualcosa da dare in denaro però per il momento quindi magari nei prossimi minuti vi faranno un'offerta la sintesi è 5 per 4, 5, 4 uomini e una donna 4 uomini e una donna, volontari